Mi chiede a tutti, è il tema che mi ha detto che sta tomando il luogo di incinerator, nel momento che non è qui nel parco di un boss. Un incinerator che ho avuto questionato nel passato, però con l'Awe non è tutta la mira e l'importanza di oggi. Mi sono contento con l'Awe, che è urgente che l'incinerator sia, non mi sono contento che l'acqua, per non realizzare quão importante l'incinerator è per il paese Aruba. E lamentablemente mi ha detto che l'Awe non ha dato l'attenzione a noi. Un incinerator, mi ha dato una informazione qui nella comunità e nel bossonà, che ora ci ha introduzito, per esempio il manejo del incinerator, c'è una parte più o meno di 200 ton di medical ways Aruba che producì. 200 ton, ci sono le mando a buscare un incinerator e il tempo, e in Ibiza sa che ci sono le cose che producì, o che ci sono le cose che convertì per noi, ma non si può fare per chiama. In tre luni di tempo, ma comprende, vorrei dire il mare, in un anno qui non che avarrebbero 200 ton di medical ways. In questo modo, l'Awe ha dovuto avere una parte di un anno, di circa 600-700 ton di medical ways. E se non abbiamo incinerator, un'indie di di là qua, l'Awe lo è arrivato. L'Awe è partito innenso, non ci sono criticati, non ci sono kiti, non ci sono ricevuti, ma non ci sono killers. con il slutsch. Il slutsch non è premissato, ma la quantità di slutsch che ci sono incinerati qui, ma la quantità della quantità che ci pensano che ci hanno a produrre. C'è cosa che succede se ci sono incinerati qui non ci sono, è che ci sono un remix, perché ci sono un remix, ci sono un sushi nel parco, e ci sono delle attacche di musca non ci sono i geni una quantità, le cose che sono sempla e la quantità come le cose sono Spera, pronti all'incineratori dentro e qui come le cose di sahare. Questa cosa è quella di essere più in riscaldato che ci sono. Questa cosa di usare il commercio per altri? E non solo perché non ci sono dei questi spiani per attaz farà, ma poter generare, ma più fondi. Il giro che ci sono iniziata a produrre, senza santi. Per il sicuro di usare le cose che prendere durante nel caso, La clinica, l'officina di dottore, l'abogato con il documento, l'abogato con il documento, l'abogato con il documento, l'abogato con il documento, l'abogato con il clasificato. Ma come ho detto, la droga a un certo momento, l'abogato con il incineratore, l'abogato con il valore. Ora, ora è un'inversione. Il tempo che non si dice, ah, non si sta invertendo 2 milioni, 3 milioni. C'è molta placa per un incineratore, sendo che la quantità di sushi, che sta surpassando 2-3 via, non solo per motivo di sushi, ma è un'hygienico che ci sta per la salute di gente. C'è tutto ciò che ci sta, non si parla un rato quieto. L'abogato con il dumpo prima, ora che non si può mettere un incineratore. E ojalà pronto, ci possiamo avere un'incineratore in Aruba e che un progetto grande di incineratore che ci possiamo planare, per evitare che ci stagglie di sushi, la banda di dump, può fare un restop, e for once e for all, ci possiamo attendere con il nostro desperdicio di sushi in una forma correcta che non è in Aruba. Grazie a tutti.